Ciao a tutti gli amici di Nonno Chef, in questa puntata faremo il ragù alla napoletana. Per come me lo ricordo io, come lo faceva mia mamma. Ah, che profo mio. Grazie a tutti Ecco qua, il cuoco deve sempre assaggiare Buon 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 Ecco qua, assaggiamo Proviamo, proviamo questo ragù, con una pasta integrale. Ti posso dire una cosa in rumanesco? Ma lo staremo a fare una cazzata. E' buono lo stesso perché... Fammi mangiare ma che me frega! Con un buon bicchiere di lambrusco, salute a tutti e buon ragù alla napoletana. Da nono chef, seguite la pagina, mi raccomando. E dopo il ragù alla napoletana, che è praticamente un piatto unico, no? C'era la pasta e poi c'era dentro appunto la salsiccia, le costine di maiale, la carne di nutella. E alla fine un bel caffè allungato con una bella sambuca. Alla salute per tutti! Che Dio ve la mandi buona! Guarda che bel viso che c'ha a me buono! Guarda! Ma ti piace? Guarda! 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 Guarda!